Allora basta, mi dite sempre tu sei quello che fa Fantozzi, tu sei quello che fa Villaggio, io ho un nome e un cognome, quindi da oggi io non sono quello lì o quello là, io da oggi vi rispondo, so Lillo. Tu sei quello che fa Fantozzi? Eh sì, lo faccio da quando avevo 5 anni. Lo faccio. Grazie.